ciao a tutti e bentornati allora ieri abbiamo trattato la faccenda del riflesso sulla tazza immagine attribuita alla presenza di dennis con la coppia milanese che in questi giorni sono in visita a roma ed hanno già visto il bar e la casa dei cesaroni il primark e il conad dove tra l'altro ne è uscita molto delusa per la storia della campanella non sapete che cos'è la storia della campanella fermi lì che vi racconto tutto io allora era una mattinata tranquilla esattamente come tutte le altre e i nostri due vip si sono recati al conad e lì hanno scoperto che era in corso un'iniziativa benefica ebbene sì perché facendo una spesa di almeno 15 euro con l'aggiunta di un euro e 90 era possibile ricevere una campanella in ceramica condisegnati dei personaggi della disney l'emozione era incontenibile tanto che lei aveva già scelto quella con disegnato paperino poi però arrivata la cassa l'amara sorpresa la campanella non si poteva scegliere ma veniva anzi consegnata in un sacchetto di carta chiuso quindi il soggetto acquistato era casuale dice sì ma questo cosa comporta comporta tipo che ti possono capitare pure sei campanelle tutte uguali e sai dopo che giramento di campanelle un dramma insomma ora nel frattempo che le persone sensibili si ripigliano da sto trauma e vabbè ma chi se ne frega devono farsi una corazza pure loro anche perché io adesso ho da raccontarvi l'ultima novità bene adesso togliete le mani da lì e ascoltate qua la storia della tazza ha fatto il giro dei canali lo sapete tutti e chiara e davide hanno subito smentito la presenza di dennis con loro ma da parte di dennis non c'era ancora stata né conferma né smentita questo però fino a ieri notte perché all'ora dei vampiri fa la sua comparsa sulle scene dennis che tramite una breve live riporta quella che è la sua verità 30 minuti in cui fa un quadro ben preciso di quella che è la sua situazione attuale il buon dennis che salutiamo racconta che in questi giorni è costretto a casa da febbre e un po di influenza un malanno di stagione che si è beccato a causa del repentino cambiamento del tempo quello che nostri cugini inglesi chiamano change of weather poi invece c'è chi nonostante le intemperie sta sempre a petto nudo come il nostro amico qui nel video diceva beh ma lui sta in palestra sta al chiuso sì ma non vuol dire comunque torniamo a dennis dunque che stavamo a dire di dennis dicevamo che è costretto a riposo e conferma che non ha ancora visto i due amici vip sebbene poi la coppia sia a roma già da qualche giorno però aggiunge che non appena starà meglio ci sarà l'incontro con loro perché dopo tutto è risaputo che si sono riavvicinati quindi non hanno più niente da nascondere ed io che sono tra i pochi normali in questa parte di youtube c'è la minoranza confermo la cosa sì è più che normale se sono tornati amici possono esporsi tranquillamente il resto della solive continua con dei racconti di vita programmi post guarigione e conclude il discorso dicendo che con i vip lascia assolutamente tutte le porte aperte per una ritrovata amicizia ma null'altro con tanto di risatina finale l'avete colta la chicca no e avete dei problemi quindi dopo questa sua affermazione qualcuno sicuramente sta rimattendo in valigia tutti i trucchi e tutte le creme di bellezza a meno che poi non abbiate un uomo vicino e quindi lì la produzione è continua e gratuita ma non gli schifo bene e questo è tutto per il discorso dennis ora però non andate via perché perché dobbiamo aprire il portale sorianese beh armiamoci di pazienza e andiamo a vedere cosa succede nell'antro sorianese beh qui prevalentemente le notizie rilevanti sono due vi ricordate che la sora chiara in uno dei suoi ultimi blog aveva detto che aveva intenzione di fare un incontro a roma con tutti i suoi fan beh la dama che non segue per niente chiara l'ha subito imitata e in che modo proponendo nella sua community una sorta di sondaggio allora questo è il sondaggio e adesso ve lo leggo per intero lei scrive ciao a tutti amiche e amici visto che la nostra peppa big ha lanciato un appello per un incontro a roma ho pensato perché non sfidarla con il mio mega sondaggio la dama nera è pronta ad incontrare i veri fan ma chi sarebbe disposto a partecipare a questo imperdibile evento ragazzi fatevi sapere e se peppa big ci farà un baffo sappiate che il vero incontro è qui allora partiamo col dire che la dama ha dato quattro opzioni di scelta la prima è sì voglio incontrare la dama nera ma solo se porta i popcorn opzione che ha raggiunto quota 28 per cento mentre la seconda opzione proposta è sì ma solo se posso portare il mio panda di peluche questa opzione è stata votata per il 3 per cento dalla sua utenza mentre la terza opzione offerta è no preferisco vedere peppa pig che esplora roma beh qui cala un silenzio imbarazzante perché questa opzione che vede preferita chiara alla dama ha raggiunto quota 62 per cento beh è decisamente una bella badosta mentre la quarta ed ultima opzione dice dipende ci sarà il buffet perché il cibo è la vera attrazione e beh che dire io adesso mi trovo anche in una posizione imbarazzante perché non so come commentare la cosa perché comunque rilevo che lei un po di impegno ce l'aveva messo perché tra le tante opzioni aveva anche inserito delle cose spirituose no tanto per permettere un po di pepe al sondaggio di certo non si aspettava questa netta vittoria della chiara allora facciamo questo gioco pseudo sondaggio mettiamo che io fossi obbligata a partecipare ad un incontro e mi viene chiesto a quale vuoi partecipare a quello della dama o a quello di chiara beh io senza dubbio direi se per forza quello di chiara ed ecco perché capisco benissimo quel bruciante 62 per cento beh ma non è tutto perché oltre questo c'è stata una seconda comunicazione quindi ci ritroviamo nuovamente in community e sempre tramite post allora la dama scrive comunicazione interna a me già fa ridere quando parte così perché sembra che stia curando non lo so una una campagna promozionale presidenziale no contatto di sondaggio e questo riferimento al popolo alla nazione ma che cazzo è un canale su youtube comunque comunicazione interna purtroppo mi è morto il cell non si accende più nel frattempo che calogero lo controlla e speriamo lo resuscita io non posso accedere a whatsapp quindi se mi messo non posso rispondere abbiate pazienza appena risolvo vi rispo quindi la situazione era quella ieri sera il cellulare della dama non si riattivava quindi lei non poteva rispondere ai messaggi su whatsapp ora qui è lecito immaginare la disperazione da parte della sua utenza quindi andiamo a vedere tutte queste persone che sono andate a mostrare solidarietà per la loro idola allora c'è tempesta che scrive tranquilla nina anche a me purtroppo succede e basta solo tempesta e quindi questo cellulare che ha smesso di funzionare ma alla fine poco male tanto la dama dice io prendo tre stipendi il lavoro di vigilantes di culogero il lavoro di elettricista sempre di calogero e poi quello che guadagno io su youtube quindi ma qual è il problema ti prendi anche tu un bel iphone 16 pro max rosa e te lo piazzi in casa nel frattempo che la dama si piazza in casa il suo nuovo iphone rosa io voglio seguire il consiglio della mia amica patti allora lei mi dice prendi un cucchiaio raso di semi di chia mettili a bagno sti semi per tipo 15 minuti dopodiché li metti nello yogurt mischi il tutto e consumi tutto insieme semi di chia yogurt allora io ho una bustina di semi di chia da 150 grammi quindi cosa faccio parto oggi e credo mi durerà per un bel po comunque poi vi faccio sapere gli effetti benefici di questi semi nel frattempo che i semi di chia fanno il loro sporco lavoro io vi saluto vi auguro buona continuazione di giornata vi invito a seguire quello che sarà il mio prossimo meraviglioso riassuntone ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti dai gossip breve ps finale allora tutti i personaggi che vedete in questo video hanno preventivamente firmato una liberatoria quindi per quanto riguarda la parte legale siamo a posto voi però fatevi un po i fatti non andate a dire in giro ascoltate il video guardate il video e basta ecco